25 a 36, secondo netto Massimo Perazzo con 37 punti. Bravo! Ok, bene. E primo netto di terza categoria Elena Nicod con 39 punti. Ok. Nella seconda categoria Handicap di gioco da 15 a 24, secondo netto Maurizio Di Tomassi con 38 punti. Bravo, Maurizio, è andato via, poi lo lasciamo. E primo netto di seconda categoria Fabio Cini con 41 punti. Bravo Fabio. Nella prima categoria Handicap fino a 14, secondo netto Silvestro Ottonelli con 41 punti. Bravo Silvestro. E primo netto di prima categoria Gabriella Cervo Nassimo con 43 punti. Perfetto. Grazie a tutti i partecipanti, grazie a tutti i buoni divertimenti.